Ciao carissimi follower, una nuova scossa di terremoto colpisce l'Italia poco fa, circa alla mezzanotte, alle ore mezzanotte 09, quando una scossa di magnitudo, anche non da sottovalutare, ha colpito la zona del mar Tirreno, a pochi chilometri da Catania, in riva al mare. Proprio in questa zona c'è stata una scossa di magnitudo di 3.8-4 gradi della scala Richter, che è avvenuta a circa 8 chilometri di profondità e a una distanza di 10 chilometri dalla costa. Se tale scossa ci fosse stata sulla terraferma, poteva essere anche molto devastante e violenta. Fortunatamente è stata solo avvertita leggermente dai paesi vicini alla costa. Vi ricordo di seguire tutti i prossimi aggiornamenti di meteorologia e sismologia, importantissimi per mantenervi in buona salute.